Il ministro è rimasto contuso, come valuta questa situazione? Se io stessi in Parlamento prendere la parola per dire che arriviamo molto tardi, scusate il ritardo, è una legge di civiltà, dovrebbero votarla tutti. Capisco che adesso stanno bene insieme Lega, Casa Pound, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia. Finalmente si comprende chi sta con le libertà civili, chi sta per la Costituzione, chi sta per la giustizia e chi invece fa propaganda o cerca il consenso del momento su un tema molto delicato che ci sarebbe poco da strumentalizzare. Questi sono i temi dove sono in gioco le libertà, i diritti, la giustizia e la solidarietà, non dovresti andare dietro al consenso. Quindi mi auguro che il Parlamento approvi quanto prima questa legge, che ha il netto che ogni legge può essere migliorabile, può essere perfettibile, ma che innanzitutto passasse il principio che le persone che vivono, che nascono nella nostra città, possano avere la cittadinanza, possano votare. Qua c'è una vergogna di persone che stanno da anni e anni e anni, che sono magari più napoletani del napoletano che fa lo scippo o la rapina per esempio, che magari chi continua a fare rapine se ne potrebbe anche andare da Napoli. Invece se c'è qualcuno che vuole vivere nella nostra città e integrarsi, ma perché non può avere il diritto di votare, perché non può avere la cittadinanza? Quindi credo che abbiamo sancito definitivamente la svolta a destra del Movimento 5 Stelle.